Musica Abbiamo sentito un boato, sembrava veramente che due macchine si fossero scontrate, delle voci e dopodiché abbiamo sentito pure la voce di questa persona, comunque niente, è stato bruttissimo Prima hanno sfondato la vetrata utilizzando come ariete un'auto rubata, una station wagon e poi utilizzando del gas hanno fatto saltare in aria la bancomata nelle mile di una banda di malviventi la filiale di banca toscana di Mercatale, Valdarno Aretino Il colpo è stato messo a segno nel cuore della notte attorno alle 4 quando un forte boato ha svegliato di soprassalto l'intera frazione, alcuni residenti addirittura si sono affacciati alla finestra Però tutti avevano paura a scendere ma sono stati 5 o 6 minuti, non di più È sembrato lunghissimo, a me credo se si guardasse il cronometro non erano più di 5 o 6 minuti I ladri dopo aver mandato in frantumi la vetrata hanno manomesso il banco ma utilizzando probabilmente come innesco della cetilene poi si sono dati alla fuga con i soldi incontanti che erano presenti Prendeva la rincorsa, andava verso la banca, di nuovo, botta, botta e poi alla fine uno gli ha detto di smettere Loro hanno minacciato, chiamate pure i carabinieri, poi sono ripartiti a tutta volata un mezzo paraurti spaccati Ad interrompere la loro fuga una pattuglia dei carabinieri di Levane I malviventi così messi alle strette hanno proseguito a piedi nascondendosi forse nei boschi circostanti È ancora da quantificare l'entità del bottino ma pare si aggiri su qualche migliaio di euro al quale ovviamente si aggiungono i danni subiti dalla struttura al baglio degli inquirenti e anche filmati registrati dalle telecamere della filiale